Zacc, sei il ragazzo di oggi. Hai trovato il posto dove hai trovato i nostri competitori. Sì, ero molto veloce in corna prima, quindi ho capito che ho avuto un'opportunità. Sì, andiamo all'interno, avevamo un po' di toccazione. Egger ha avuto l'acqua e poi ho avuto l'acqua nella chicane. Sì, c'è un po' di buona raccoglione qui oggi. I due raccogliano molto bene, quindi buon lavoro per loro. Prima della finale, abbiamo visto una giornata che era così veloce. In mio opinion, era la più veloce. Quale era il tuo obiettivo prima della finale? Un win o un podium è sufficiente? Un win è sempre il obiettivo, ma abbiamo sbagliato per qualche pace nella pre-final. Abbiamo cambiato alcune cose sulla cartella, alcune cose nella mia gara. Abbiamo avuto la pace per la finale. Non sapevo che ero così veloce, ma quando ero così veloce, stavo cercando di concentrarsi per ottenere i miei marci. Quando ero con Johnny e Nicolas, stavo cercando di farlo così veloce. Pensavo che avrei avuto una battaglia in la ultima lapca, ma ho fatto un buon move e ho messo molto, quindi non ho bisogno di difendere, che è sempre bello. Grazie. Grazie.